Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra in Cesaregello e Firenze in Pruneta in direzione Bologna e tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in entrambe le direzioni. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In Fipi lì 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Firenze, un chilometro invece in direzione Livorno. Ancora in direzione Firenze 2 km di coda per incidente tra Ponte del Ovest, Ponsacqua e Montopoli-Valdarno. Cantieri di Firenze per lavori edili oggi in orario 9.19 rimarrà chiusa la direttrice Lungarno-Acciaiuoli, Piazzetta del Bene e Vicolo dell'Oro. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!